Una cosa deve essere chiara. Il divieto di portare cibo e bevandi in spiaggia, laddove imposto dai gestori degli stabilimenti barneari, è illegittimo. Ma ogni anno la storia purtroppo si ripete, con continue segnalazioni, su alcuni lidi che non rispettano la legge. Come è successo qualche settimana fa a Gallipoli, dove volevano vietare la mamma di una bambina celiaca di portare alimenti senza glutine all'interno dello stabilimento. Al tal proposito interviene Feder Consumatori per sottolineare ancora una volta come tutto questo sia illegittimo, ricordando che esiste un'ordinanza barneare 2024 della Regione Puglia, articolo 4, lettera F, che statuisce chiaramente che è sempre consentito sulle spiagge e sulle aree demaniali introdurre alimenti e bevande per il consumo proprio come anche dispositivi medici di emergenza, negli opportuni contenitori, come ad esempio le borse termiche, nonché consumare cibo o altro anche se non acquistati in loco. Si ricorda tra l'altro che le società che gestiscono i lidi esercitano la loro attività sul demanio pubblico in concessione. Non sono quindi proprietari di nessun suolo, di conseguenza non possono impedire a nessuno di portare cibo e bevande e non possono esercitare alcun controllo ispettivo sul suolo demaniale. Alla luce di quanto detto, Feder Consumatori invita i cittadini a continuare a inviare segnalazioni, ma anche a interpellare prontamente la Polizia Municipale.